Liberty Shipyard Liberty Shipyard è un'eccellenza indiscussa nella produzione di modernissime navi veloci. Il cantiere di Trapani vede quotidianamente al lavoro oltre 120 persone, tra operai specializzati ed ingegneri navali. Qui, grazie alla collaborazione con i più importanti istituti idrodinamici del mondo, hanno visto la luce tre generazioni di aliscafo, dal progetto al bar. Il Carlo Morace, la Marie e per finire il Gianni M, l'aliscafo più grande del mondo. Il Gianni M è un'imbarcazione di elevato contenuto tecnologico, un aliscafo sviluppato in collaborazione con i più importanti istituti idrodinamici europei, 38 metri di lunghezza per un totale di 350 passeggeri, in grado di raggiungere una velocità massima di oltre 38 metri. Sono dei mezzi che sono più vicini al reparto aeronautico che ai mezzi navali in senso tradizionale. L'operato di Liberty Shepier sta contribuendo notevolmente al rilancio delle unità navali veloci, aliscavi sempre più prestanti e moderni. Una generazione evolutissima, che offre maggior comfort, spazi più ampi, un migliorato isolamento acustico, minori consumi. Quindi, più rispetto per l'ambiente, ma soprattutto più sicurezza e più velocità. Il nostro punto di forza è quello di avere un contatto diretto con gli equipaggi della Liberty Lines. Questo ci permette di avere un riscontro immediato sulla funzionalità delle nostre nuove costruzioni, dei nostri nuovi progetti. La disponibilità di equipaggi e di una flotta navale come quella di Liberty Lines permette a Liberty Shepier di sviluppare e migliorare costantemente i progetti, basandosi sul confronto con nuove esigenze e sviluppando una professionalità che rappresenta un'eccellenza assoluta nel mondo. Liberty Shepier. L'eccellenza della navigazione veloce nel mondo. L'eccellenza della navigazione veloce nel mondo.